Un'arte etica, un'arte politica è quella che pervade il panda questa mattina. Oltre 80 lavori di 44 giovani artisti napoletani sono esposti al Palazzo delle Arti di Napoli che in questo modo accentua la sua vocazione ai linguaggi del contemporaneo. Non solo dipinti, sculture, fotografie, ma anche installazioni e performance d'autore sono raccolti in un unico habitat collettivo per raccontare frammenti di vita urbana, di civiltà del presente, di un immaginario conformato e disturbato dai simboli del quotidiano. È il progetto Nina, nuova immagine napoletana, che nasce in seno all'Accademia delle Belle Arti in collaborazione col Comune di Napoli. Ci auguriamo che sia sicuramente il primo step, assolutamente bisogna avere il coraggio di puntare sui giovani, assolutamente l'Accademia è un punto e un luogo di riferimento, lo è sempre stato, oggi lo è assolutamente di più. Il Pan è un luogo magico della città. Il Pan è un luogo preposto ai linguaggi del contemporaneo, lo stiamo riempiendo di contenuti e il rapporto con l'Accademia è un rapporto fondante in questo ambito. Lo è stato fin dall'inizio, questa mostra è l'epilogo di un percorso già iniziato da tempo, i ragazzi dell'Accademia hanno curato anche il maggio dei monumenti come immagine grafica. È un modo per valorizzare i talenti e soprattutto i talenti giovani di questa città. Materiali variabili, sensibilità eterogenee, esiti multiformi. Una performance d'artista allude con sarcasmo al senso di sospensione e di vuoto che attraversa le nuove generazioni. Un'altra installazione sovrappone l'identità dell'individuo e il cibo di cui si nutre, specchio della sua condizione sociale. Questa mostra Nina è straordinaria, la nuova immagine napoletana, il ringrazio di cuore l'Accademia delle Belle Arti che ancora una volta ha dimostrato di essere un punto di riferimento dell'eccellenza napoletana nel mondo. Arte, creatività, immagine, fotografia, pittura, da qui si riparte, si riparte soprattutto per dare contezza del fatto che sulla cultura questa città punta, ha sempre puntato dall'inizio e punterà sempre di più.